Leonardo da Vinci, il genio rinascimentale. Leonardo da Vinci è stato uno dei più grandi geni della storia dell'umanità. Pittore, scultore, architetto, scienziato, ingegnere, musicista, anatomista, geologo, cartografo, scrittore, inventore e botanico. Ha lasciato un'eredità inestimabile che continua ad affascinare e ispirare ancora oggi. La vita. Leonardo nacque il 15 aprile 1452 a Vinci, un piccolo paese in Toscana, figlio illegittimo di un notaio e di una contadina. Fu cresciuto dal padre e dalla nonna, che gli diedero un'istruzione completa, sia in campo umanistico che scientifico. Nel 1469 si trasferì a Firenze, dove iniziò a studiare arte sotto la guida di Andrea del Verrocchio. Nel 1478 si iscrisse alla Corporazione dei Pittori di Firenze e iniziò a lavorare come artista indipendente. Tra il 1482 e il 1499 visse a Milano, dove fu al servizio di Ludovico il Moro. In questo periodo realizzò alcune delle sue opere più famose, tra cui Il Salvatore Mundi, La Vergine delle Rocce e Il Cenacolo. Nel 1503 tornò a Firenze, dove continuò a lavorare come artista e scienziato. In questo periodo realizzò il ritratto di Ginevra Benci e il San Gerolamo nello studio. Nel 1516 si trasferì in Francia, dove fu invitato a corte da Francesco I. Qui trascorse i suoi ultimi anni, lavorando a diversi progetti, tra cui la costruzione di un ponte sul fiume Loira. Morì il 2 maggio 1519 a Clou, vicino a Danboise, in Francia. Le opere. Leonardo da Vinci è considerato uno dei più grandi pittori di tutti i tempi. Le sue opere sono caratterizzate da un realismo straordinario, da un uso magistrale della prospettiva e della luce e da una profonda indagine psicologica dei personaggi. Tra le sue opere più famose vi sono, La Gioconda, 1503-1519 Il ritratto di una donna dal sorriso enigmatico. Considerato uno dei dipinti più famosi al mondo. L'ultima cena, 1495-1498 Il dipinto murale che rappresenta l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Il Cenacolo, 1495-1498 La copia del dipinto murale L'ultima cena di Leonardo da Vinci, realizzata da Gian Pietrino. La Vergine delle Rocce, 1483-1490 Il dipinto che rappresenta la Vergine Maria con il bambino Gesù e due angeli. Il Salvatore Mundi, 1500-1519 Il dipinto che rappresenta Gesù Cristo come Salvatore del mondo. Oltre alla pittura, Leonardo da Vinci si dedicò anche ad altre arti, come la scultura, l'architettura e la musica. Il genio rinascimentale Leonardo da Vinci è considerato il simbolo del Rinascimento, quel periodo storico in cui l'uomo si pose al centro dell'universo e cercò di comprendere e dominare la natura. La sua figura è emblematica del genio creativo e della curiosità intellettuale che hanno caratterizzato questo periodo. Leonardo da Vinci era un uomo visionario, che ha anticipato i tempi con le sue idee e le sue invenzioni. Il suo lavoro ha avuto un impatto profondo su tutte le discipline, dall'arte alla scienza, dalla tecnologia alla filosofia. La sua eredità continua a ispirare e affascinare ancora oggi, a secoli dalla sua morte. Alcune curiosità. Leonardo da Vinci era un vegetariano convinto. Era ambidestro, ovvero poteva usare con la stessa destrezza sia la mano destra che la sinistra. Era un grande appassionato di musica e suonava diversi strumenti. Era un appassionato di volo e ha progettato diversi modelli di alianti. Era un grande osservatore della natura e ha lasciato un'enorme quantità di disegni di piante, animali e paesaggi. Conclusione. Leonardo da Vinci è stato un uomo straordinario, che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'umanità. Il suo genio creativo e la sua curiosità intellettuale continueranno a ispirare e affascinare ancora per molti anni a venire.